Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, tanto per cambiare, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me, dal mio giubbotto alla guerra e da una rarità assoluta, la maglietta vintage del team Kawasaki ufficiale cross del 1984. Scusate, sono tifoso Kawasaki, abbiate pazienza, è più forte di me, non ci posso fare niente, Kawasaki Heavy Industries, le moto più metallari di tutte, che ci volete fare? Allora, cari signori, questa sera parliamo di una delle più famose, delle più celebrate, di una delle più, come dire, arcinote Wunderwaffen tedesche, perché parliamo delle ali volanti Hörten, le cosiddette Hörtennerflügels, ok? Si trattava di tutta una serie di progetti, di prototipi, di, come dire, di idee di aerei che prevedevano la cosiddetta soluzione aerodinamica e costruttiva, detta tuttala, senza alcun piano di coda. Praticamente erano questi. Eccolo qua. La fonte, come sempre, eccolo qua. Questo sarebbe l'aspetto, sarebbe stato l'aspetto dello Hörten HO9, detto anche GOTA GO229. Un aereo dall'aspetto modernissimo, come vedete, un aereo che aveva questa inconsueta costruzione tuttala, senza alcun tipo di piano di coda. Una struttura, quella tuttala, che derivava dalle esperienze di aliantisti dei fratelli Hörten, che erano gli inventori di queste ali volanti. Il progenitore era questo qui, vedete? Il Parabel del 1935, un aliante. Si tratta di tutta una serie di progetti, di prototipi, di studi, eccetera, per creare un cacciabombardiere in grado di volare a mille chilometri all'ora, portando mille chili di bombe con un'autonomia di mille chilometri. Oibò, un super aereo, eccezionale, eccetera, eccetera. Va bene. C'è da dire una cosa comunque. Lo Hörten operativo ebbe una carriera decisamente breve. Perché, come dire, il prototipo V2 dello Hörten, eccolo qui, dello Hörten 9 o Gotha 229, questo qui, volò il 18 dicembre 1944, secondo quanto ricordato da Reymar Hörten, uno dei due fratelli. Mentre sul libretto di volo del collaudatore Erwin Ziller si trova la data del 2 febbraio 1945. Ok. Ma durante un successivo collaudo, il 18 febbraio del 1945, ci fu l'improvviso spegnimento di uno dei due motori. Eccolo qua ancora. Eccolo. Ci fu l'improvviso spegnimento di uno dei due motori e il povero Ziller ci lasciò le penne perché l'aereo era diventato assolutamente incontrollabile. Il 12 marzo 1945 Goering confermò il programma di produzione per il Gotha 229, inserendolo nel cosiddetto Jagernot Program, il programma per i caccia di emergenza, di cui ho già parlato in un altro video. Però oramai era troppo tardi. Il 14 aprile lo stabilimento di Friedrichsroda venne occupato dalle truppe americane che trovarono il prototipo V3 praticamente completo e lo portarono in America, dove è tuttora custodito. Gli Hörten, i fratelli Reimer e Walter Hörten avevano studiato per anni le caratteristiche dei tuttala. Erano degli alliantisti, facevano volare gli allianti. C'era a dire una cosa, un alliante tuttala vola bene, è facilmente bilanciabile e non dà assolutamente problemi. I problemi con la configurazione tuttala giungono quando ci si mettono i motori. E lì, come dice il saggio, so cazzi. Perché? Perché non si riesce a bilanciare bene l'aerodinamica. La struttura aerodinamica tuttala dà dei problemi gravi di stabilità, problemi che sono stati risolti soltanto recentemente con il bombardiere B2 Spirit che vola con sofisticati computer di bordo che regolano l'inviluppo di volo e con i cosiddetti comandi fly by wire che riescono a tenere sotto controllo la instabilità intrinseca di questo tipo di struttura aerodinamica. Il motivo per cui negli anni 50 Jack Northrop rinunciò alla costruzione dei suoi bombardieri tuttala. Ce ne furono diversi. Si pensa anche al fatto il gotha 229 si pensa anche che fosse un progenitore degli aerei stealth vista la sua sagoma. Ma non lo era assolutamente. Non era un effetto voluto quello dell'invisibilità ai radar. C'era una certa difficoltà, pare, nell'intercettarlo con i radar perché si trattava di un aereo costruito essenzialmente in legno e dalla sagoma quanto meno sfuggente. Ma non era un effetto voluto quello dello stealth e che non ci fu mai. Cioè la tecnologia stealth è vecchia, è molto più recente rispetto alle ali volanti Orten. Ripeto, le ali volanti Orten erano un progetto decisamente velleitario, un progetto decisamente troppo avanti per i tempi, troppo avanti per le caratteristiche della tecnologia del tempo. I problemi di stabilità, i problemi di inviluppo di volo delle ali volanti Orten furono risolti soltanto con le moderne tecnologie. Gli Orten, siamo sinceri, furono dei gran furboni durante la seconda guerra mondiale. Furono estremamente furbi perché come ufficiali piloti della Luftwaffe loro avrebbero dovuto partecipare alla guerra, combattere in guerra. Erano destinati al fronte russo e siamo sinceri, era meglio finire al fronte russo o passare il tempo in Germania a studiare gli aerei tutt'ala promettendo chissà che cosa a Goering e a Hitler. Ne abbiamo già parlato. Cacci balle per sopravvivere e il risultato è che ottieni altre balle come quella dell'ala volante Orten. Ripeto, l'ala volante Orten, il Gota 229, per carità, bello a vedersi, bello a vedersi oggettivamente, ma non si sa quanto avrebbe potuto essere utile allo sforzo bellico tedesco. Perché? Aero complicato nel pilotaggio, aero difficile da tenere per aria. Un aereo che era né più né meno un progetto di aliante tutt'ala motorizzato con tutto quello che ne conseguiva, con tutti i traini nefasti aerodinamici che venivano generati, con tutti i problemi che dava questa struttura aria. Tant'è che dopo il tragico secondo volo in cui il collaudatore Ziller ci lasciò le penne per lo spegnimento di un motore, il programma fu praticamente arrestato. Fu trovato soltanto il prototipo V3 che, ripeto, fu portato in America, analizzato, studiato e musealizzato. Perché oggettivamente quel geniaccio di Jack Northrop era molto più avanti rispetto ai fratelli Orten. Gli Orten dopo la guerra si trasferirono in Argentina e progettarono, per conto del governo peronista, un aereo da trasporto che avrebbe dovuto collegare le zone agricole dell'interno dell'Argentina con le città sulla costa, soprattutto Buenos Aires, doveva trasportare ortaggi, frutta, arance, eccetera, eccetera. Tant'è che l'F si chiamava FMAIA38, detto naranhero, l'aranciaio, quello che coltiva le arance. Eccolo qua. Guardatelo un po'. Un aereo goffo, brutto, sgraziato, mosso da, insomma, decisamente sottopotenziato e assolutamente inadatto per quello a cui doveva servire. Insomma, gli Orten non è che fossero propriamente così geniali come avevano fatto credere nel corso degli anni della guerra a Hitler e a Göring. Ecco qua un'altra foto del naranhero in volo. Eccolo qui. Un aereo, questo degli Orten, decisamente brutto, brutto, diciamo sinceri, brutto, e decisamente fallimentare perché pur essendo un quadrimotore era decisamente sottopotenziato, faceva fatica a stare per aria. Insomma, per l'ennesima volta, anche le ali, volanti, orten, sono l'ennesimo esempio della capacità, tra virgolette, propagandistica della Luftwaffe di credere fortemente a progetti velleitari ma fantascientifici e soprattutto dell'abilità commerciale di gente che deve vendere libri, disegni e modellini. E anche quello è il motivo della fama dello Orten 9 o Gotha 229. Il fatto che è un aereo oggettivamente affascinante, è un aereo bello, elegante, è un aereo che fatto come modellino, diciamo, colpisce molto l'immaginazione, ma fu un aereo pressoché inutile, che volò due volte e la seconda volta si schiantò per terra. Perché? Perché come in tanti casi era troppo avanti. E soprattutto una cosa. Gli Orten, tutto sommato, non avevano neanche alcun interesse a finire le loro ricerche. Perché avevano una paura fottuta di finire sul fronte russo e non ne volevano sapere. Eh, lo dissero, lo scrissero anche. Ripeto, non erano quei geni che vengono creduti, i fratelli Orten. Erano due furbastri. Quando poterono mettere in pratica le loro idee aeronautiche e, come dire, aerodinamiche, come in questo caso, eccolo qui, eccolo qui, lo IA38 e il Naranjero, non è che ne combinarono, insomma, non è che le combinarono molto giuste. Speto, il Naranjero, che doveva essere un aereo da trasporto per i collegamenti tra l'entroterra argentino e le città sulla costa, fu un fiasco perché praticamente non riusciva a stare a quasi per aria, dato che quei fresconi dei fratelli Orten avevano adottato dei motori decisamente sfiatati da neanche 300 cavalli per muovere una macchina decisamente pesante. Che vi devo dire? Geni inversi, sicuramente. Furbi, poco ma sicuro. Bravi a vendersi le loro idee per non finire al fronte russo, ma ai risultati pratici, come in tanti casi con le Wunderwaffen, nessun risultato pratico, solo una plateale totale e demenziale perdita di soldi, tempo, denaro e risorse varie. Per cosa? Perché qualcuno era riuscito a intortarsi il Gerarcone di turno per promuovere questo tipo di aereo e soprattutto stare molto distante dal fronte russo. Tutto qua. La leggenda delle ali volanti Orten si risolve qui. La somiglianza con i progetti Northrop c'è, è indubbia, ma si tratta solo della cosiddetta convergenza evolutiva. Northrop utilizzava tutt'altre soluzioni. Northrop era molto più avanti. Northrop era un genio. I Horten erano due furbastri. Tutto qui. Northrop continuò per tutta la vita a studiare l'ala volante e alla fine la Northrop, un'ala volante efficace, bella, funzionante e che vola bene l'ha costruita. Il bombardiere B-2 Spirit, che però, ricordiamoci sempre, proprio per la sua configurazione tutt'ala, può essere controllato solo tramite i suoi sofisticatissimi computer di volo e i suoi sistemi di comando fly-by-wire. Se no, te lo metti per cappello. Tutto qua. Quindi, cari signori, abbiamo parlato di un altro mito delle Wunderwaffen tedesche, abbiamo parlato delle ali volanti Horten, abbiamo parlato di queste bellissime e spettacolari creazioni dei fratelli Horten. Ma, come sempre, risultati pratici, praticamente a zero e soltanto tanto, tanto, tanto materiale per gli appassionati, i fanatici, i nerd e i modellisti. Un aereo che avrebbe potuto essere un buon cacciabombardiere, ma era un aereo che aveva, come testimoniano gli incidenti che ha avuto, un aereo che aveva decisamente difficoltà a stare in aria. Ecco, questo è il Tre Viste, anche qua, come vedete, l'aspetto è decisamente molto moderno, è innegabile che sia decisamente molto moderno, ma è altrettanto innegabile che fu un clamoroso spreco di tempo, di risorse e di denaro che potevano essere utilizzate in maniera ben più utile. Le ali volanti Horten, tra la truffa e il sogno, che vi devo dire. C'era chi ci credeva e c'era chi sfruttava questa credulità per evitare di andare a fare la guerra contro Ivan, che non era propriamente un bel cliente. Tutto qua. Quindi, cari signori, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Spero che abbiate apprezzato il video sullo Horten 9, sul GOTA 229 e fatemi sapere che cosa ne pensate. Come sempre, commentate, 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 commentate. Fatemi sapere i vostri pareri. Ok? Quindi, cari signori, io vi ringrazio di tutto cuore e, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Buonasera.